Era il 1966 quando padre Paolo Azei fu ordinato sacerdote. Sono passati 50 anni e domenica pomeriggio la diocesi sassarese ha festeggiato il suo arcivescovo. Nel duomo di San Nicola erano così presenti i sacerdoti con le comunità parrocchiali, i religiosi e le religiose e le aggregazioni e gli organismi diocesani. Sono intervenuti i vescovi di Tempio Sebastiano Sanguinetti, di Aless e Roberto Carboni, di Ozzieri Corrado Melis e i vescovi emeriti di Nuoro Pietro Meloni e di Aless Giovanni Dettori, oltre alla batte di San Pietro di Sorres Antonio Musi. Nato a Mantua nel 1942 da famiglia originaria di Simala, in provincia di Oristano, padre Paolo ha trascorso i primi anni da frattino nel convento di Santa Maria a Sassari. Nel 1959 la prima professione e nel 63 la professione solenne. Il 18 dicembre del 1966 l'ordinazione sacerdotale a Oristano. Poi nei decenni successivi gli incarichi di Parroco, provinciale dei fratti minori conventuali, vescovo di Tempio Ampudias nel 1993 e dal 2004 arcivescovo di Sassari. Un grazie a nome di tutta la comunità è stato espresso dal sindaco Nicola Sanna. Tanti auguri per questi 50 anni, ma anche a 100 anni. A nome dei fratti minori conventuali è intervenuto il provinciale padre Salvatore Sanna, mentre il vescovo di Tempio Sebastiano Sanguinetti ha rinnovato i sentimenti di affetto della conferenza episcopale Sarda, di cui padre Paolo è vicepresidente. All'inizio della concelebrazione, Monsignor Mario Simula ha letto la lettera di auguri inviata da Papa Francesco. Adesso però non è solo tempo di festeggiamenti, ma anche di saluti. Per raggiunti i limiti di età, padre Paolo si appresta a lasciare la guida dell'arcidiocesi sassarese. Grazie. Grazie.